Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Bene, nella trasmissione di oggi non abbiamo Francesco, che è stato trattenuto per impegni. Francesco lo troverete il prossimo giovedì, e terrà lui sia la prima che la seconda trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo è l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, intanto premetto subito una cosetta abbastanza particolare. In questo mese, nel mese di aprile, non terrò nessun dibattito qui a Radio Gamma 5, perché non ho un buco libero, cioè non ho nessuna possibilità un sabato sera di tenere un dibattito. Purtroppo con la turnistica che ho io sono impegnato tutti i sabati e tutte le domeniche, anche prestissimo, e purtroppo, come sapete, c'è il congresso mondiale delle regioni etniche, il congresso del Vucer, che si terrà ad Anversa all'inizio di giugno e praticamente tutte le ferie me le devo concentrare per quella settimana, per quei dieci giorni che starò via, insomma, per il congresso. Pertanto, purtroppo, nel mese di aprile non sono in grado di avere nemmeno un buco per riuscire a fare un dibattito. Per contro, già è la linea di massima, per il momento possiamo dire che il rito, invece, il rito che teniamo presso il Bosco Sacro, a Iesolo, dell'equinozio d'estate, sarà tenuto, penso, in linea di massima, il sabato dovrebbe essere il 18 giugno. Cioè, il 18 giugno ci ritroviamo presso il Bosco Sacro di Iesolo per il rito dell'equinozio d'estate. Beh, questo però, in linea di massima, poi magari, andando avanti col tempo e con le trasmissioni, vi daremo i dati più precisi e le indicazioni più precise. Ricordo che il rito dell'equinozio d'estate è il rito relativo al fuoco, cioè il rito del fuoco, il rito della luce. Lo stesso rito che, lo stesso inno, l'inno al fuoco, che trovate tranquillamente anche in internet, è stato messo, è stato messo anche in inglese, e verrà recitato, verrà declamato anche su ad avversa quando si farà il rito con le religioni etniche. Lo stesso inno che è stato declamato anche ad Atene, presso il Tempio di Atenas Unias, lo scorso giugno, diciamo così. Bene, torniamo allora al discorso di oggi. Prima parola della trasmissione, oggi parleremo di un elemento fondamentale dell'antico religione, del paganesimo. Un elemento fondamentale che appartiene poi a chiunque fa religione, cioè a chiunque ha un'idea religiosa e da questa idea religiosa ricava chiaramente dei principi di vita, dei modi di essere, dei modi di rappresentarsi. Ed è la questione escatologica dell'esistenza, in pratica la fine della vita, in pratica la morte, in pratica ciò che ci attende nell'aldilà o cosa ci attende nell'aldilà. Questi elementi sono fondamentali di qualsiasi religione. Cioè, i buddhisti possono dirvi che c'è la reincarnazione, st'altro vi dicono che c'è la metempsicosi, st'altro che c'è l'inferno, il paradiso, il paradiso di Allah, cioè ogni struttura religiosa ha una visione della morte e della vita oltre alla morte che poi si trasforma nei principi attraverso i quali andiamo ad affrontare la vita, perché come noi andiamo ad affrontare la vita manifestiamo dei principi che sono propri dalla nostra visione della morte, in pratica. Ed è importantissimo, è un elemento fondamentale che abbiamo già trattato varie volte, perché ricordo che morire, la morte, è il più grande bisogno, è il più grande trionfo, questo per il paganesimo, dell'esistenza, e tutta l'esistenza cresce, nasce e si sviluppa in funzione della morte. E naturalmente noi tratteremo questo tema, tratterò questo tema oggi, partendo da alcuni testi molto antichi che vanno sotto il nome di laminette orfiche. Le laminette orfiche non erano altro che delle laminette d'oro che vennero ritrovate in tombe, in tombe degli orfici, in tombe di chi seguiva appunto le religioni misteriche orfiche, e che ci danno quella che è la visione degli antichi, la visione degli antichi sulla morte e su come affrontare la morte. E la condizione molto importante è questa, perché questa è laminette di cui io vi parlerò, e quello che è il concetto degli orfici nella fronte alla morte, in realtà non appartiene semplicemente alla religione misterica degli orfici, ma appartiene a tutto il mondo antico. Soltanto che, mentre è facile parlare delle divinità antiche relative allo Stato, a Zeus, a Giove, a Odino, è più difficile, è andato semi perduto, non perduto, però nella storia si è voluto far credere che oltre a questa visione, diciamo che i cristiani hanno spacciato, hanno contrabbandato, come la visione religiosa degli antichi, in realtà non ci fosse una visione religiosa popolare, non ci fosse un'escatologia, non ci fosse un modo di affrontare la vita e delle finalità per la vita. Se voi vi prendete un attimino i testi, i testi delle religioni antiche, e parlano dell'Ade, per esempio, l'Ade ve lo descrivono come un luogo di ombre che vagano, e sembra quasi che gli antichi avessero quest'idea di questo luogo di ombre che vagano. In realtà l'archeologia ha portato molti testi alla luce, cioè ha portato in molte cose che prima erano nascoste, e la cultura che è venuta costruendosi, uscendo proprio dall'orrore della coercizione cristiana, è riuscita a leggere e interpretare le cose in maniera diversa. Pertanto noi abbiamo, sia nelle regioni antiche, ma sia nella stragonaria e nel paganesimo moderno, abbiamo la visione di quella è la morte e il fine di quello che noi facciamo e perché lo facciamo. E vedremo come, infine, non varrà neanche la pena di parlare del dopo morte dal punto di vista del paganesimo, perché il dopo morte dal punto di vista del paganesimo condiziona in maniera relativamente la qualità della vita quotidiana, perché ciò che a noi interessa in realtà non è tanto la morte in se stessa, ma come noi viviamo, perché è questo che ci interessa alla fin fine. Ebbene, a questione escatologica della religione pagana politeista in riferimento alle laminette orfiche. Dalle laminette orfiche ritrovate nelle tombe si può facilmente comprendere l'escatologia degli antichi. La prima domanda che ci si deve porre è A me, dei mondi o della vita oltre la morte, del corpo fisico, cosa interessa? Questa è la prima domanda che ci si deve porre. In tutte le religioni che conosciamo oggi, le religioni monoteiste, cristianesimo, islam, ebraismo, la risposta è finalizzata alla consolazione. Le religioni monoteiste, il cristianesimo e l'islam in particolare, fanno della descrizione della vita, oltre alla morte del corpo fisico, un elemento centrale sul quale articolare la loro dottrina. Per esempio, nel cristianesimo, vuoi sapere che c'è la risurrezione dei morti. Cioè, la vita fisica è l'elemento centrale del cristianesimo. Il cristianesimo esiste soltanto nella vita fisica. Se voi vi leggete l'inferno, le punizioni che Dio darebbe alle persone che non lo hanno seguito, sono punizioni estremamente fisiche, sembra quasi di essere una camera di tortura degli inquisitori. Ed è, cioè, l'inferno è quel dolore che gli inquisitori potevano combinare con i loro strumenti e le persone indifese. e noi abbiamo queste immagini nel cristianesimo, queste immagini di terrore e queste immagini di terrore servono per giustificare l'esistenza del Dio buono. Sì, vabbè, io ti do queste immagini di terrore, però non ti preoccupare, Dio in fondo è buono. Cioè, tu mi dai l'immagine del terrore, però mi dici, sai, in fondo, Dio è buono. Cioè, veramente, è da prendergli a calcini e sedere, sta gente. Un mondo di beatitudine o di dannazione in relazione all'applicazione della loro dottrina, la parola del loro Dio. Dal momento che per il monoteismo la vita oltre la morte del corpo fisico è appannaggio esclusivo del loro Dio padrone quale generatore della vita del corpo fisico, la descrizione della vita oltre il corpo fisico diventa l'elemento su cui articolare la loro dottrina. Dal momento dice il cristianesimo che il Dio creatore ti giudicherà dopo la morte tu devi comportarti secondo i suoi dettami se vuoi entrare nelle sue grazie ed accedere al paradiso altrimenti sarai condannato per l'eternità. E questo o fai quello che voglio io o io ti ammazzo per i cristiani si chiama libero arbitrio. Capite che è veramente un non senso. Dal momento dice il cristianesimo che io detengo la parola del Dio creatore se tu non farai quello che voglio io tu non rientri nemmeno nelle grazie del Dio padrone e pertanto sarai destinato alla condanna eterna. Definire e comprendere come una religione descrive la morte del corpo fisico la vita oltre la morte del corpo fisico le traversie della coscienza dell'individuo quando il corpo fisico viene a morire significa mettere a fuoco l'intera dottrina che al di là di come si presenta è finalizzata a raggiungere quell'obiettivo imposto e descritto. Perché? Come pagani politeisti diciamo che il cristianesimo altro non è che una dottrina violenta finalizzata alla sottomissione e alla distruzione dell'uomo? Perché il cristianesimo ha al suo centro un Dio padrone creatore che la morte del corpo fisico giudica a quest'uomo giudicare significa discriminare in base ad una norma che viene fissata e alla quale si impone agli individui di omologarsi da qui tutta la vita del cristiano è il sottomettersi ad un giudizio continuo il cristiano nel suo comportamento è sempre sotto il giudizio di qualcuno del suo padrone della comunità del prete del paese o del quartiere da questo giudizio non ha scampo se non cercare complicità partecipando al giudizio collettivo giudicare gli altri che non si comportano secondo le norme di verità da qui nasce la struttura sociale di controllo dei cristiani che solo dal 1968 è stata un po' la volta spezzata il giochino del pazzo di Nazareth della pagliuzza e della trave è un gioco retorico usato per colpevolizzare chi non è in grado di difendersi dove il più forte nella gerarchia sociale nonostante i feroci atti che ha messo in essere accusa chi è più debole di avere una trave nell'occhio al fine di impedirgli di giudicarlo non è più forte perché il dio padrone gli ha dato il potere e dunque perché il più debole lo giudica tu non devi giudicare il padrone tu non devi giudicare il magistrato tu non devi giudicare il prete tu non devi giudicare voi tila il papa tu non devi giudicare quello tu sei una merda non devi giudicare il tuo padrone o chi sta più in alto nella gerarchia tu non devi giudicare Dio questo è il concetto del cristianesimo al contrario invece Dio ti giudica il padrone ti giudica il prete ti giudica il poliziotto ti giudica il magistrato ti giudica il sindaco ti giudica tutti fanno le norme nei confronti dei più deboli e creano questa società di orrore questa società di odio in cui chiaramente dal 68 in poi è cominciato invece a spezzarsi cioè quando è cominciato il principio secondo cui tutti gli esseri tutti i soggetti sono uguali tutti i soggetti hanno le stesse capacità e gli stessi diritti arriviamo a avere le proprie sentenze della corte di Cassazione che dicono le sentenze vanno criticate i magistrati vanno criticati le cose vanno dette i poliziotti vanno criticati e così via cioè in pratica non c'è nessuno che può esentarsi della critica ed è dovere dei cittadini farlo è dovere dei cittadini farlo perché come dice sempre la corte di Cassazione va a costruire quel giusto equilibrio fra il potere che fa rispettare la norma e il cittadino che avverte in quella norma delle discrepanze o delle cose che secondo il suo giudizio sono da criticare sono da condannare per cui questo giusto equilibrio che deve costruirsi all'interno del sistema sociale in cui viviamo è fondamentale è fondamentale per costruire la vita per cui chiaramente questo la corte di Cassazione ha abbattuto un aspetto del dio padrone dell'orrore cristiano che è imposto nella società tutte le dottrine monoteiste partono da un presupposto ovvio e indiscutibile tutti gli esseri umani continuano a vivere mediante un'anima con la propria consapevolezza di sé dopo la morte del corpo fisico tutte le dottrine monoteiste partono dal presupposto che l'anima tradata il dio padrone è l'anima continua tu sei qui sei provvisorio su questa terra ma poi continui come anima per cui non è importante come tu arrivi alla morte sicuramente la tua anima continua cioè tu hai il biglietto garantito nel dopo morte dopo il tuo dio padrone fa quello che vuole però tu hai il biglietto garantito questo presupposto è proprio ciò che il paganesimo politeista e le antiche religioni non condividono per accettare l'affermazione fatta dal monoteismo è necessaria l'esistenza di una separazione fra l'essere umano e l'insieme della natura da cui l'essere umano è divenuto questa separazione non è mai stata accettata dalle antiche religioni tant'è che gli esseri animali e gli esseri vegetali hanno spesso impersonato simbolicamente gli dei i loro attributi e la loro manifestazione a volte gli esseri animali e gli esseri vegetali sono trasformazioni degli dei gli dei e le divinità nei vari miti si trasformano in e o per Zeus che si trasforma in toro per esempio in cigno l'interazione dialettica fra l'essere umano e la natura è il motivo fondamentale di tutte le antiche religioni questa interrelazione viene spiegata dal paganismo politeista in chiave moderna con le categorie dell'attuale analisi scientifica ma nulla toglie l'antico sentire religioso che considera gli esseri umani come una parte di un tutto che si trasforma in continuazione attraverso la trasformazione e la relazione delle sue parti e qui facciamo un attimino di pausa perché il documento questo documento lo sto leggendo lo trovate tutto in internet l'escatologia pagana ci vorrà qualche giorno perché google perché i motori di ricerca lo linkano però lo trovate praticamente sulle nostre pagine però faccio un attimo di pausa per riuscire a comprendere la differenza che esiste fra l'impostazione religiosa del paganismo politista e l'impostazione religiosa del cristianesimo mentre nel cristianesimo nelle religioni monoteiste l'uomo è creato dal dio padrone per cui è separato prima l'uomo dio crea la terra dopo gli animali le piante alla fine crea l'uomo cioè c'è una separazione di un divenire in essere per cui l'uomo è a somiglianza del dio l'uomo ha la scintilla l'uomo mangia il pomo della conoscenza cioè la mela della conoscenza gli animali no attenzione nel paganismo invece noi non abbiamo un altro aspetto e per dirvi dell'altro aspetto mi prendo un pezzo relativo a tale pseudo aristotele questo pezzo di pseudo aristotele era conosciuto e apparteneva al secondo secolo avanti cristo ed era chiaramente un pezzo un pezzo orfico questo pezzo del pseudo aristotele è stato ritrovato nel papiro di darveni cioè in una tomba a darveni ed è del sesto settimo secolo avanti cristo adesso vado un po' memoria perché adesso non ho più qui il dato sto mano ebbene fa parte proprio di quella che è la visione religiosa degli orfici e degli antichi ma farò una cosa di più io sostituirò alla parola Zeus la sostanza la realtà di Zeus cioè Zeus ve l'ho detto un sacco di volte Zeus Giove Diavas e altri dei delle antiche religioni non sono altro che l'atmosfera ebbene vi leggerò questo piccolo pezzetto sostituendo alla parola Zeus la parola atmosfera e poi sentite il senso che ha dice pseudo aristotele perciò anche nei poemi orfici si dice bene l'atmosfera nacque per prima per ultima l'atmosfera dalla vivida folgore l'atmosfera è la testa l'atmosfera è il mezzo tutto è proceduto attraverso l'atmosfera l'atmosfera è la base della terra e del cielo stellato l'atmosfera fu maschio l'atmosfera immortale fu fanciulla pronta alle nozze l'atmosfera è il soffio di tutte le cose l'atmosfera è l'impieto del fuoco instancabile l'atmosfera radice del mare l'atmosfera sole e luna l'atmosfera è re l'atmosfera da vivi da folgore il sovrano di tutte le cose l'atmosfera li nascose tutti e poi alla luce dispensatrice di gioia li fece salire dal suo cuore puro terribili atti compiendo se io alla parola Zeus che ormai siamo abituati ad associare l'immagine dell'io sostituisco la parola attuale che ha il significato di Zeus cioè l'atmosfera vi accorgerete che c'è un movimento di trasformazione un movimento di divenire di divenuto di tutto il presente che emerge proprio perché l'atmosfera avvolge la terra perché senza l'atmosfera la vita della natura non sarebbe non sarebbe stata non sarebbe divenuta le cose non sarebbero emerse pertanto questo questo di uno del pseudo aristotele che lo troviamo anche lo troviamo anche nel papiro di darveni in forma ancora più antica si dimostra come gli antichi sapevano benissimo qual era la condizione del divenire delle trasformazioni delle cose pertanto non hanno bisogno della favoletta del dio creatore del dio che fa gli antichi lo sapevano soltanto la violenza cristiana è imposto dopo la visione del dio creatore del dio padrone è una visione che è anche derivata proprio a livello psichico che si è sovrapposta a quella degli antichi però noi dobbiamo anche ricordarci che gli antichi dice li nascose tutti e poi alla luce dispensatrice gioia li fece risalire dal suo cuore puro terribili atti compiendo quei terribili atti compiendo sono quelli che eraclito parla di contesa furente e di amicizia oppure vedremo invece meglio come abbiamo già visto in realtà all'interno del papiro di darveni si contesta anche eraclito stesso perché il divenire della vita e il sorgere degli oggetti dal petto di zeus dall'atmosfera il sorgere della natura all'interno dell'atmosfera avviene per armonia e per petto e per persuasione armonia e persuasione che però portano ad afrodite portano a venere perché il movimento emozionale dell'amore è il primo movimento di fusione dell'esistente questa è la visione dei pagani per cui tutto il presente diviene per trasformazione diviene per contraddizione continua diviene se volete prendere le immagini classiche di eraclito per contesa furente e per amicizia se volete prendere l'immagine religiosa degli orfici diviene per armonia e persuasione e non pensate che persuasione sia meno di contesa furente di eraclito stesse espressioni terribili non è meno di questo e per fusione cioè gli oggetti si fondano e si separano per ritornare a fondersi ed è il divenire magico della natura questa è la visione da cui parte il paganesimo andiamo andiamo avanti allora col testo dunque da un lato abbiamo un dio creatore dall'altro lato abbiamo la visione dei pagani questa visione che vi ho letto appartiene a tutte le antiche religioni in realtà e chiaramente viene formulata in maniera diversa a seconda delle tradizioni culturali diverse questo presupposto è proprio ciò che il paganesimo politeistico e le antiche religioni non condividono per accettare l'affermazione fatta dal monoteismo è necessaria l'esistenza di una separazione fra l'essere umano e l'insieme della natura da cui l'essere umano è divenuto questa separazione non è mai stata fatta nelle antiche religioni tant'è che gli esseri umani e gli esseri vegetali hanno spesso impersonato simbolicamente gli dei questa interrelazione viene spiegata dal paganesimo politeista in chiave moderna con le categorie dell'attuale analisi scientifica ma nulla toglie all'antico sentire religioso oggi attraverso la stragoneria sappiamo che al momento della morte di un corpo fisico della natura per cui anche degli esseri umani nascono numerosi corpi luminosi e molti esseri che chiamiamo dei divengono e si trasformano appropriandosi della loro parte che da quel corpo fisico è stata sviluppata nel corso della sua esistenza questa affermazione che abbiamo appena fatto presuppone tre elementi fondamentali del paganesimo che l'essere umano presuppone che l'essere umano colui che chiama se stesso Tizio Caio Sempronio Franco Alberto Giovanni Giacomo eccetera in realtà non è l'unico soggetto che attraverso la propria vita costruisce la propria coscienza attraverso il proprio corpo ma il suo corpo stesso è formato da altri esseri che costruiscono la loro coscienza attraverso la vita di quel corpo e costruiscono fondamento affinché quel corpo abbia vita in pratica cosa significa questo significa che il nostro corpo non costruisce è soltanto ciò che io sono io sono Claudio non costruisce solo Claudio ma costruisce anche una colonia di intelligenze che sono i mitrocondri costruisce le intelligenze che sono i singoli batteri costruisce le intelligenze che sono i singoli virus i quali tentano di espandersi tentano di divenire nella vita inoltre questa affermazione presuppone che coloro che chiamiamo dei per quanto riguarda quello che stiamo trattando in questo momento non siano dei soggetti estranei alla realtà ma siano dei soggetti sui quali la realtà fenomenologica della natura si costruisce e diviene pertanto non dei soggetti assoluti ma dei soggetti in continua modificazione in relazione alla loro rappresentazione che nella realtà i soggetti che li manifestano ne fanno la qualità del divenire degli dei o del singolo dio è data dalla qualità della sua manifestazione che i soggetti della natura nel nostro caso di quegli dei o di quel dio ne fanno sintetizzando potremmo dire noi e gli dei siamo uno in pratica esiste una divinità esiste un dio che si chiama Afrodite e quel dio Afrodite ha un'intelligenza in sé una strategia in sé che si manifesta all'interno di tutti gli esseri di tutti gli individui di tutto ciò che appartiene alla natura e che porta alla relazione alla fusione pertanto all'espansione di ogni oggetto che è nella natura andando un po' più terra a terra Afrodite è l'amore l'amore la fusione sessuale il trasporto emozionale che abbiamo verso l'altro gli altri oppure anche le passioni per l'arte oppure le passioni per la musica le passioni per la vita tutto questo è Afrodite e Afrodite si esprime dentro di me si esprime dentro di voi si esprime in ogni essere proprio attraverso le sue passioni proprio attraverso la ricerca della soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie tensioni ma Afrodite si esprime attraverso di noi e ognuno di noi sto parlando di noi come animali come piante come virus come batteri come alberi come elefanti come tigri come pesci non è importante sto parlando di tutti i soggetti in sé della natura ebbene tanto più i singoli soggetti esprimono Afrodite tanto più Afrodite cresce e diventa forte e chiede si manifesta induce al desiderio di essere manifestata ma questo vale per Marte vale per Efesto vale per Zeus vale per Era vale per Estia vale per Demetra vale per tutti gli dei che noi conosciamo cioè praticamente il nostro divenire il divenire di ogni singolo soggetto rappresenta un patrimonio di ricchezza per il divenire di ogni divinità che noi conosciamo nel Paganessimo e questo è il secondo elemento fondamentale che noi dobbiamo capire per riuscire a capire il Paganessimo il terzo elemento che noi dobbiamo mettere a fuoco è che l'esistenza la vita degli esseri della natura è un processo di costruzione di trasformazione di divenire il cui trionfo viene celebrato con la morte del corpo fisico un trionfo che è aperto a tutti i soggetti che vi hanno partecipato sia la coscienza che chiama se stessa Tizio, Caio, Sempronio Antonio, Alberto, Giacomo eccetera sia gli dei che sono il fondamento della realtà dell'esistenza della vita fisica sia tutte le coscienze di sé che attraverso lo sviluppo del corpo fisico hanno riconosciuto se stesse e hanno messo in essere le proprie strategie di esistenza per espandersi in quell'oggettività e per quell'oggettività pertanto la morte del corpo fisico la fine di questo spazio che noi occupiamo fra la nascita e la morte è il nostro trionfo è il trionfo nostro è il trionfo degli dei è il trionfo di tutto ciò che noi abbiamo dentro per riuscire a comprendere ancora questo prendiamo un altro piccolo passo relativo alle antiche religioni e proviamo un attimino a sentire cosa questo ci dice perché ogni tanto bisogna anche ricordarci se gli antichi io qui ho un piccolo passo di Pausania e che parla di di Omero e di Orfeo e di Orfeo e dice il primo è introdurre i titani nella poesia fu Omero dei collocati nelle profondità del cosiddetto tartaro sono i versi relativi al giuramento di Era Onomacrito desunse da Omero il nome dei titani istitui i riti in onore di Dioniso e fece dei titani gli artefici delle sofferenze di Dioniso se questo passo di Pausania io adesso uso questo passo perché ho questo passo sotto mano se ne avessi altri ne userei altri chiaramente in realtà tutta la nostra vita è una vita di lotta è una vita di contraddizioni è una vita di impegno è una vita di strategie ebbene tutto questo quello che noi facciamo non è altro che espressione degli dei dentro di noi non è altro che espressione dei titani quando dice che i titani sono il fondamento delle sofferenze di Dioniso in realtà i titani sono le forze che spingono Dioniso a espandersi nella vita ma le forze i titani che abbiamo dentro di noi e che ci portano a espandersi nella vita un giorno ci spezzeranno Castaneda usava l'immagine della tumbadora quello è un altro discorso però un discorso che è abbastanza uguale non è diverso bastava vedere la coscienza Castaneda non vedeva la coscienza dentro gli oggetti ebbene queste forze arrivano ad esplodersi arrivano a distruggere quello che è il nostro corpo arriva la morte del corpo fisico però è il trionfo cioè è la rinascita cioè è il partorire quello che è il nostro corpo di luce però i titani si riprendono si riprendono tutto ciò attraverso i quali noi siamo esistiti perché i titani come gli dei sono il fondamento della nostra esistenza sono la realtà della nostra esistenza e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo ricordare quando parliamo di paganesimo queste affermazioni conducono ad un'ulteriore riflessione molti esseri costruiscono se stessi attraverso le azioni e l'attività di un corpo fisico che copre lo spazio fra la sua nascita e la sua morte ma un corpo fisico può anche fallire molte uova di storione vengono gettate nelle acque non tutte le uova di storione diventano storioni chi fallisce e cosa significa fallire consideriamo i soggetti che si costruiscono mediante la vita del corpo fisico della natura qualunque sia la specie e il suo divenuto gli dei sono il fondamento dell'esistenza dei corpi fisici per sviluppare un'immagine un corpo fisico lo potremmo considerare come una cellula che esprime quel dio quel dio in caso di fallimento di quel corpo fisico potrebbe avere quella potrebbe avere quella cellula non sviluppata o atrofizzata o addirittura mancante ma lo sviluppo della sua coscienza e della sua consapevolezza lo sviluppo di quel dio continuerebbe noi siamo compresi all'interno del corpo degli dei gli esseri che formano ciò che noi chiamiamo un corpo fisico hanno dei tempi di trasformazione molto inferiori a quelli del corpo fisico cioè i miei mitocondri le mie cellule che ho all'interno la mia flora batterica e i singoli soggetti che la compongono hanno dei tempi di trasformazione molto più brevi che non quelli che sono io quello di Claudio quello di Alberto quello di Gianni che si può presumere una vita media di 70-80 anni bene in 70-80 anni centinaia di miliardi di miliardi di esseri batteri si sono riprodotti sono morti sono sviluppati si sono sostituiti all'interno del mio stomaco lo stesso vale per i virus nell'arco dei 70 anni quella che è la mia vita miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di virus sono nati si sono sviluppati e si sono trasformati pertanto nascono si riproducono e muoiono in tempi molto più brevi che non il tempo con cui un corpo fisico copre il momento della sua nascita alla sua morte pertanto il fallimento di un corpo fisico li interessa molto relativamente essi sono compresi all'interno del nostro corpo al corpo fisico che chiama se stesso Tizio Caio Sempronio Alberto Gianni Giacomo interessa molto se fallire o non fallire nella propria esistenza fallire significa far coincidere la morte del corpo fisico con la fine della propria esistenza non poter proseguire nei propri mutamenti questa ipotesi è ciò che separe il paganesimo politeista dalle religioni monoteiste in pratica come pagani politeisti noi sappiamo che la vita oltre la morte che il fatto che nasca il nostro corpo luminoso non è una cosa data non è una cosa stabilita è una possibilità che abbiamo ma il fatto che la morte del corpo fisico coincida coincida con la morte la nostra psiche la nostra anima le nostre emozioni il nostro pensiero la nostra mente chiamatelo come volete è altissima il pagano politeista non sa se partorirà o meno il proprio corpo luminoso un cristiano va tranquillo che sia stato buono cattivo malvagio figlio di putana malato morto strisciante megalomane pazzo lui crede che alla morte del corpo fisico la sua anima prosegue e confida nel fregare il suo dio padrone che gli dà il paradiso un pagano politeista sa che non necessariamente la morte del corpo fisico c'è qualcosa che prosegue è chiaro questo allora un cristiano sa che ha Dio che gli ha dato l'anima che va oltre un buddista può pensare alla reincarnazione st'altro può pensare alla metempsicosi st'altro può pensare alla risurrezione dei corpi un pagano politeista sa che ci sono grosse possibilità che la morte del corpo fisico coincida con la fine di tutto col fallimento della propria esistenza la propria esistenza che è una gloria che è un successo quando muore il corpo fisico e nasce un corpo luminoso un pagano politeista sa che questa cosa se la deve conquistare e questo è ciò che separe il paganesimo da qualsiasi altra concezione sia religiosa che laica allora questa certezza è quanto fa dire il paganesimo politeista le religioni monoteiste imponendo la sottomissione costruiscono la distruzione del divenire umano nell'infinito dei mutamenti le laminete orfiche sono chiarificatrici esse mettono in risalto questa preoccupazione riesce l'individuo morto a trovare la strada per continuare ad esistere nell'infinito per le laminete orfiche è necessario che l'individuo che muori trovi la strada e sappia rivendicare il proprio diritto di esistere perché questo? perché deve dimostrare alla vita di avere potere sufficiente per continuare ad esistere potere sufficiente per determinare se stesso un potere che gli individui hanno costruito attraverso le proprie azioni e le proprie scelte durante la loro esistenza questo perché c'è una sola cosa che un essere della natura e un essere umano nel nostro caso si porta al momento della morte del corpo fisico si porta la somma di tutti gli sforzi e di tutte le sfide che ha messo in essere nella propria esistenza questi sforzi e la direzione nella quale li ha fatti hanno plasmato il suo corpo luminoso che all'atto della morte del corpo fisico viene partorito quando viene partorito il corpo luminoso viene partorito in maniera diversa a seconda del potere di essere che il soggetto ha accumulato e partorito nel corso della propria esistenza ed è a quel corpo luminoso che le laminette si rivolgono sollecitandolo a raccogliere le proprie forze e a riprendere la propria memoria riprendere la propria memoria non è inteso come ricordare ciò che fu ma ricordare che si deve continuare a vivere a manifestare se stessi a continuare lungo la propria strada di sviluppo un esempio di questo lo troviamo nella laminetta di Petelia dice la laminetta d'oro di Petelia troverai a sinistra della casa di Ade una fonte e accanto ad essa a un eretto un bianco cipresso a quella fonte non avvicinarti neppure ma ne troverai un'altra la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine vi stanno innanzi i custodi di loro sono figlio della terra e del cielo stellato urani è la mia stirpe e ciò sapete anche voi di sete sono arsa e vengo meno ma datemi presto la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosine ed essi ti daranno da bere dalla fonte divina e dopo di allora con gli altri eroi sarai sovrana a Mnemosine è sacro questo testo superare i guardiani e bere dal lago di Mnemosine si tratta di un motivo ricorrente i guardiani sono le infinite forze della vita che ci circondano e alle quali dobbiamo urlare che noi esistiamo come entità come soggetti come dei che costruiscono loro stessi è il potere di determinare la nostra esistenza di non essere supplici per quanto spetta per diritto di vita manifestare il diritto alla vita è l'atto per il quale gli esseri della natura si espandono nella loro quotidianità e nella quotidianità in ogni istante esprimono ares al fine di trasformarsi ogni soggetto che affronta la propria contraddizione in quell'istante manifesta ares Marte la guerra la contraddizione e all'interno di quella contraddizione dice io esisto e intendo ad esistere ogni soggetto manifesta ares attraverso il suo divenuto e il suo divenuto è manifestazione del proprio potere di essere che ha costruito negli istanti precedenti quel divenuto è il concetto del comportamento eroico del paganesimo l'eroe Ercole che affronta la propria esistenza e sfida dopo sfida aumenta la forza con cui rappresentare se stesso nella propria quotidianità con quel patrimonio accumulato di sfida dopo sfida l'individuo si appresta ad affrontare l'infinito dopo la morta del corpo fisico e ai guardiani dice sono figlio della terra e del cielo stellato urani è la mia stirpe e ciò sapete anche voi di sete sono arsa e vengo meno ma datemi presto la fredda acqua che scorre dal lago di Menemosine bere l'acqua fredda del lago di Menemosine significa riacquistare la memoria del proprio agire il corpo luminoso una volta partorito spesso non ha intenti sui quali fondare la propria esistenza non è più il corpo fisico non ha più la percezione del mondo e i legami col mondo che aveva la sua struttura emozionale e la forma del corpo fisico e non ha ancora acquisito l'intento della propria esistenza il proprio agire la necessità dell'agire il fine del proprio agire questo dona il lago di Menemosine lo stesso concetto è ribadito anche nella laminetta d'oro di Ipponio Ipponio a Vibo Valencia qui in Italia a Menemosine è sacro questo dettato per il Mister quando si è sul punto di morire andrai alle case ben costruite di ade vè sulla destra una fonte accanto ad essa si age un bianco cipresso lì discendono le anime dei morti per avere refrigerio a questa fonte non accostarti neppure ma più avanti troverai la fredda acqua che scorre dal lago di Menemosine vi stanno innanzi i custodi ed essi ti chiederanno di insicuro discernimento che mai cerchi attraverso la tenebra dell'ade caliginoso di sono figlio della greve del cielo stellato di sete sono arso e vengo meno ma datemi presto da bere la fredda acqua che viene dal lago di Menemosine ed essi sono mericordiosi per voler del sovrano degli inferi e ti daranno da bere l'acqua del lago di Menemosine e tu quando avrai bevuto percorrerai la sacra via su cui anche gli altri mistai e bacoi procedono gloriosi ed è esattamente quello che c'è da fare devi raccogliere le tue forze cioè quando tu muori devi raccogliere tutte le tue forze tutto quello che tu hai fatto durante la tua esistenza e con quelle forze mantieni compatto il tuo corpo luminoso se riesci a bere il lago di Menemosine e prendere coscienza di te stesso puoi continuare la vita puoi continuare le tue trasformazioni che rispetto alla mineta precedente aggiunge che dopo aver bevuto l'acqua c'è una strada da percorrere cioè ci sono altre trasformazioni non è detto che cosa succede a chi si ferma a bere la prima acqua che incontra vicino al cipresso ma non tutti i corpi luminosi degli esseri umani che vengono partoriti e la morte del corpo fisico hanno forza per andare a bere direttamente dal lago di Menemosne provaci comunque dicono le laminette orfiche il senso del passaggio e della trasformazione lo troviamo per esempio nella laminetta di Turi la laminetta di Turi dice ma come l'anima si allontana dalla luce del sole vieni nella direzione del guardiano posto a destra della via dritta è tutto perfetto gioisci tu che hai sofferto la sofferenza prima non l'avevi ancora sofferto da uomo sei diventato dio capretto cadesti nel latte gioisci gioisci perché cammini lungo la strada che si dirige a destra verso i prati sacri e i boschi di persefone il termine sofferenza sta a indicare gli sforzi che si sono compiuti nella propria esistenza le trasformazioni che si sono attraversate e il risultato degli sforzi è ben definito nella laminetta da uomo sei diventato un dio capretto cadesti nel latte lo stesso concetto è ribadito nella laminetta di pelinna laminetta di pelinna ora muori ora rinasci tre volte beata in questo giorno dia persefone che bacco in persona ti liberò toro balzasti nel latte subito balzasti nel latte a riete cadesti nel latte a il vino o beata quale segno d'onore e sottoterra ti rendono i riti perfetti degli altri beati che gli altri beati celebrano e per concludere metto i testi di altre due laminette di turi che hanno il senso di far comprendere il ruolo di ade e di persefone nelle antiche religioni la prima dice vengo dai puri pura regina degli inferi eucle e ubeo e voi altri dei e demoni giacché affermo di essere anch'io della vostra stirpe beata pagai la pena per azioni non giuste e mi soggiogarono la moira e il folgolatore celeste con i suoi fulmini ora supplici e son giunta presso persefone la casta perché benevole mi mandi alla sede dei puri e lo stesso è la laminetta d'oro la seconda laminetta di turi vengo dai puri pura regina degli inferi eucle ed eubuleo voi altri dei immortali giacché affermo di essere anch'io della vostra stirpe beata ma mi soggiogarono la moira altri dei mortali e il folgolatore celeste con i suoi fulmini volai via dal cerchio di pesante dolore e tormento e con i piedi veloci salia all'agognata corona mi immersi poi nel seno della signora regina degli inferi ed all'agognata corona discesi con i piedi veloci felice e beatissimo sarai dio invece che mortale capretto caddi nel latte in tutte queste due laminette c'è il concetto di mortale che si trasforma in un dio ricordatevo sempre questo che è l'essenza fondamentale del paganesimo cioè costruire il proprio corpo luminoso significa proseguire nell'infinito dei mutamenti e questa è la differenza che c'è fra una delle differenze fondamentali fra il paganesimo politeista e le religioni rivelate le religioni rivelate ti danno la certezza della vita oltre a morte il paganesimo politeista non c'è la certezza non esiste in realtà non esiste la certezza tutto finisce con la morte al corpo fisico l'unica cosa che ti può garantire di continuare è l'insieme degli sforzi l'insieme delle strategie l'insieme delle cose che hai costruito nella tua vita che hai manipolato le tue emozioni le tue tensioni i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti queste due laminette danno il senso della vita come sfida e della trasformazione dove la beatitudine altro non è che aver raggiunto la possibilità di continuare a trasformarsi nell'infinito dei mutamenti e chi è impegnato nella dura lotta come individuo come individuo della natura trova beato chi ha già superato questa fase di trasformazione eh sì beato toni che sei morto mi metto che a fare la fila per pagare tasse anch'io sono della vostra stirpe beata anch'io ho superato la morte del corpo fisico e sono rinata la moira ha soggiogato il mio corpo fisico ma io ho vissuto con coraggio e con passione perciò sono della vostra stirpe beata il quesito escatologico che il pagano si pone non è la qualità della vita oltre la morte del corpo fisico ma se sarà in grado di continuare la propria esistenza oltre la morte del corpo fisico il pagano politeista non teme né castighi né premi qualunque azione faccia sia che la morale corrente la consideri buona o cattiva appartiene solo al suo divenire alle sue trasformazioni avrà avuto abbastanza pietas nei confronti del mondo in cui vive il mondo avrà favorito ed ostacolato le sue azioni la società lo avrà definito privo di pietas o pieno di pietas ma le sue scelte e le sue sfide che le sue scelte hanno messo in atto sono quelle che hanno prodotto dentro di lui il suo cambiamento per la sua gloria o per la sua distruzione il senso del coraggio con cui il pagano politeista affronta eroicamente la propria vita ad imitazione degli eroi mitici altro non è che la sua attività per fondare il proprio divenire nell'infinito dei mutamenti i guardiani mi stanno aspettando ma non sono là per giudicare se sono buono o cattivo il mio cuore sulla bilancia dell'esistenza ha un peso ha un potere un potere che ha costruito nel corso della propria esistenza ed è con quel potere che vengono aperte le porte dell'infinito le porte della beatitudine ed è proprio della religione pagana politeista il detto come si vive così si muore come disse un attore in un film facciamo sì che noi non si debba rimpiangere eccessivamente per non aver pensato quello che avremmo dovuto pensare per non aver detto quello che avremmo dovuto dire per non aver fatto quello che noi avremmo dovuto fare perché fare o non fare è sempre una scelta che modifica noi stessi ci dilata o ci rattrapisce nel nostro divenire nel nostro espanderci nello sviluppo del nostro potere di essere e come ci può favorire nel bere la fresca acqua del lago di Mnemosine così ci può ostacolare fino al punto di far coincidere la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso ricordo che i testi delle laminette orfiche sono tratte da Religioni dei Misteri a cura di Paolo Scarpi e l'edizione è Fondazione Lorenzo Valla che potete trovare chiaramente in ogni in ogni libreria le edizioni di Lorenzo Valla sono delle buone edizioni molto prestigiose che danno anche delle ottime traduzioni di testi antichi bene visto che abbiamo ancora qualche minuto quando io ho mandato questo pezzo in internet lo sto facendo girare da qualche giorno non è ancora linkato sui motori di ricerca ma lo sarà abbastanza presto qualcuno ha osservato che le laminette orfiche e anche le espressioni che venivano usate sono molto vicino a quello che erano l'antica religione egiziana in realtà c'è una ci sono molte discussioni fra gli studiosi per riuscire a comprendere quali sono le relazioni fra l'antica religione egiziana e l'orfismo quello che comunque siano le credenze reali cioè le credenze religiose all'interno dell'area mediterranea l'uno e l'altro si integrano in maniera incredibile sembra che in realtà sia stato un unico grande paganesimo espresso in centinaia e centinaia di culture diverse per cui attraverso immagini diverse per far per far capire questo io qui ho un capitolo di un libro si chiama Il Tempio del Cosmo è di Neidler edizione di Neri Pozza c'è un capitolo I concetti dell'oltretombe egiziano ve ne leggo due o tre pagine visto che abbiamo ancora un po' di tempo perché riusciate a comprendere come ciò che io vi ho detto delle laminette orfiche in realtà coincida esattamente con questo insomma cioè comunque sia molto assonante e i concetti dell'oltretomba sebbene il duat sia spesso tradotto con oltretomba bisogna il duat era il cosiddetto oltretomba egiziano no? sebbene il duat sia spesso tradotto con oltretomba bisogna ribadire che questo termine rende in modo inesatto il significato che gli egiziani attribuivano al termine duat letteralmente la parola duat ha la connotazione di crepuscolo del mattino dell'alba immediatamente prima del sorge del sole aurora dovrebbe quindi essere tradotto con luogo del crepuscolo del mattino questo è il suo senso originario in cui c'è il concetto di quello spazio che sta fra il giorno e la notte fra il buio e la luce siccome però ha appunto in sé la connotazione del crepuscolo del mattino non è semplicemente un luogo tra la luce e il buio ma in sé anche il senso del buio che cede il passo alla luce così che il duat è la zona in cui si viaggia dal buio verso la luce ovvero dalla notte verso il giorno il termine oltretomba non è adoperato per tradurre solo il duat ma anche altri concetti simili frequenti nei testi egiziani il primo di questo è Amentet che letteralmente vuol dire il luogo nascosto come il concetto di Matt anche Amentet era personificato da una dea di grande bellezza la signora dell'occidente la quale riceve il sole che entra nella misteriosa regione al di là del mondo visibile Amentet è un aspetto di Ator Onut la madre cosmica che ogni sera inghiotte e ogni mattina rigenera il sole ciò che vale per il sole vale anche per il mondo visibile nella sua totalità Amentet è sia il luogo in cui al momento della morte scompaiono le forme sia quello da cui riappaiono quando rinascono e questa visione di Amentet è la stessa visione che c'è dell'Ade dei Greci cioè Ade Persefone non è semplicemente il divino dell'oltretomba ma è il divino che genera il divino che genera nel nascosto e che fa uscire la luce Persefone è la figlia di Demetra Persefone è la piccola crescita la piccola crescita che va nel sottoterra che va nell'Ade che va nei luoghi oscuri e là nei luoghi oscuri fa germinare la vita che sboccia infatti Persefone esce a primavera però nello stesso tempo è colei che accoglie alla fine della vita cioè l'Ade alla fine della vita ma la fine della vita per un pagano non esiste perché esiste la fine del corpo fisico per cui per un pagano la morte non è altro che la nascita del proprio corpo luminoso in realtà è un giorno di festa è un giorno di festa perché in realtà viene partorito il proprio corpo luminoso e là c'è Persefone perché perché è una nuova vita che continua è una crescita che continua e questa visione in sé che hanno gli egiziani è la stessa visione che in realtà hanno i greci che poi i cristiani l'abbiano deformato tutto e anche i tardi i tardi mitologi hanno deformato tutto i filosofi compresi questo è un altro discorso dato che Amentet è il mondo nascosto invisibile all'interno della dea cosmica si tratta di un mondo invisibile colmo di potenza in esso le cose non esistono né in modo del tutto spirituale né come fenomeni fisicamente riscontrabili bensì uno stato invisibile ma in movimento suscettibile di metamorfosi e trasformazioni continuare nell'infinito dei mutamenti diciamo noi la terza parola che viene solitamente tradotta con oltretomba è netarkert che significa che letteralmente significa luogo divino sottostante i geroglifici non precisano sotto a che cosa stia questo luogo divino potrebbe essere sotto le stelle oppure sotto la terra ed è evidente che gli egizi lo pensavano come sottostante sia le prime cioè tra il cielo e la terra sia la seconda dato che le stelle erano sparse per tutto il corpo della dea cosmica nut l'oltretomba era sia all'interno del suo corpo sia sotto di esso come abbiamo visto veniva anche considerato geograficamente situato nell'occidente là dove ogni sera cale il sole ma pure all'oriente perché il sole ogni mattina emergeva dall'oltretomba si riteneva anche che il nilo scatturisse dall'oltretomba il che ci fa pensare da una sua localizzazione nel meridione ma gli spiriti umani viaggiando verso la loro casa celeste fra le stelle del nord passano attraverso l'oltretomba e che vuol dire che lo si poteva anche trovare nel nord in pratica dove era quest'oltretomba era tutto attorno a noi sotto di noi sopra di noi ed è esattamente dove noi stiamo vivendo forse la cosa più importante riguardante il termine Netarchet è che esso implica l'esistenza di un luogo sopra qual di là che si è concepito come sopra sotto la terra da questa parte o dall'altra parte del cielo si trovi al nord si trovi al sud dall'est all'ovest l'oltretomba si trova sempre lungo il percorso che conduce a un regno superiore qui dice diciamo diverso dovremmo veramente indicare per l'oltretomba che l'oltretomba veniva avvertito come onnipresente ma siccome non era mai considerato un luogo fisico non era mai stata definita una sua collocazione in un luogo fisico la sua collocazione era psichica e mitografica e in esso si poteva entrare ogni volta che ci si avvicinava ai confini della normale coscienza sensoriale per questa ragione ogni qual volta usiamo il termine oltretomba con riferimento all'antico Egitto dovremmo sempre tenere ben presente che esso rendi in maniera inadeguata il ventaglio di significati dell'originale concetto egiziano si arrivò a ritenere che l'uomo entrasse nell'oltretomba al momento della morte e che assumesse la forma di Kaoba c'erano alcuni che erano in grado di entrare nell'oltretomba prima della morte la confidenza con il luogo dell'oltretomba era inevitabile appannaggio era inevitabile appannaggio della scienza del mago del sacerdote poiché quei luoghi erano costituiti da energie psichiche che era necessario dominare e trasformare durante il percorso verso la realizzazione spirituale a differenza del luogo senza ritorno dei mesopotamici del lade dei greci del scioglio e degli ebrei l'oltretomba non era un luogo in cui coloro che entravano erano ridotti a pure ombre senza speranza di mutamento o spostamento esso era al contrario un luogo attraverso cui si poteva viaggiare e il viaggio consisteva in un seguito di battaglie e di prove ciascuno delle quali se superata assumeva valore di trasformazione spirituale contraddizione amicizia e contesa furente l'individuo man mano che procedeva verso l'oltretomba diventava sempre più se stesso sempre più sintonizzato con il nucleo divino e luminoso del proprio essere esso dunque era più vicino alla concezione cristiana del purgatorio che non agli oltretomba di mesopotamici eccetera eccetera una fonte importante di approfondimento dell'oltretomba egiziano è il libro dei morti del nuovo regno eccetera in pratica questa era la visione degli antichi che avevano della vita oltre le morte dopodiché cosa è successo è successo che arrivarono i cristiani ebbero bisogno di costruire la vita come orrore come sottomissione come distruzione e imposerò la verità nel paganesimo politista non esiste una verità ma esiste una trasformazione continua temi viene tradotta normalmente come giustizia in realtà temi è una titanessa che armonizza l'universo non è giustizia come noi la intendiamo socialmente ma è l'armonia di tutte le cose l'equilibrio di tutte le cose che esistono nell'universo e perché ci sia una giustizia quella che noi chiamiamo giustizia è necessario che Zeus con temi partoriscano di che perché solo attraverso Zeus l'armonia delle cose dell'universo si possono trasferire nella natura e allora abbiamo un'altra armonia abbiamo l'armonia sociale che poi diventa legge diventa norma diventa morale diventa quello che e questa è rappresentata da di che pertanto noi non abbiamo mai nel paganesimo una verità non abbiamo mai nel paganesimo un dover fare non abbiamo mai nel paganesimo un dover essere nel paganesimo politista abbiamo sì te stesso noi sappiamo che diveniamo per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontriamo al momento della nostra nascita anzi già nella pancia di nostra madre per cui sappiamo che quando siamo adulti in realtà abbiamo già subito tutta una serie di trasformazioni tutta una serie di incidenze che hanno modificato ciò che attraverso il nostro animo ciò che attraverso i nostri sentimenti esprimiamo ma arrivare a fare questo e piegare tutto questo ad una morale imposta perché Dio lo vuole perché il padrone lo vuole perché questa cosa lo vuole fino a stuprare la propria capacità di percezione di relazione a quel mondo è un atto di omicidio cioè è un atto di violenza con cui si distrugge la capacità dell'uomo di continuare a vivere oltre la morte del corpo fisico cioè sottomettere l'individuo ad una verità rivelata ad una verità che si antepone che si contrappone alle proprie emozioni ai propri sentimenti ai propri desideri porta l'individuo a distruggersi porta l'individuo a non riuscire a partorire il proprio corpo luminoso alla morte del corpo fisico e un esempio del genere noi l'abbiamo vissuto qualche giorno fa quando è morto Voitila Voitila è morto disperato Grazie a tutti